oggi vi parlo del primo numero delle prime impressioni sul primo volume di call of the night di kotoyama questo manga uscito per jpop al costo di 6 euro e 50 dello stesso autore di dagashikashi un manga molto carino anche quello che parlava di questi negozi di dolciumi tipici giapponesi gli snack dolci e salati anche se non ricordo male molto caratteristici del giappone tanto che ci sono appunto dei negozi appositi che li vendono che mi aveva colpito inizialmente per il disegno molto molto carino e per la trama anche abbastanza originale per il soggetto originale che però secondo me peccava un po di ripetitività per quanto riguarda i volumi che avevo letto che erano 6 7 8 poi non l'ho finito per quanto riguarda invece questa nuova opera ovvero call of the night che jpop ci ha proposto da pochi giorni in giappone è ancora in corso dal 2019 con 10 volumi pubblicata dalla shogakan e di cosa parla quest'opera pubblicata in origine su shonen sunday parla di un ragazzo e una ragazza quelli che vediamo in copertina in particolare il nostro protagonista inizialmente poi i due hanno diciamo la stessa importanza sembra essere appunto il ragazzo che ha un'insonnia che lo fa andare a giro un pochino la notte sembra per noia perché non sa cosa fare a casa e quindi comunque non va neanche più a scuola praticamente perché gli interessa solamente andare a giro la notte e spesso non riesce a svegliarsi una notte durante il suo girovagare appunto insonne incontra la ragazza che propriamente una ragazza non è nel senso che gli svela essere una vampira praticamente subito e qui devo dire che c'è la prima cosa che forse mi ha fatto un pochino storcere il naso ovvero il fatto che il ragazzo non sembra avere particolare reazione davanti a questa scoperta cioè boh trova una vampira così ok che vuoi che sia una vampira chi è che non trova una vampira di notte quando esce a fare una passeggiata e vabbè comunque è un manga è uno shonen manga va bene ci sta diciamo che non è che la cosa che chiedo è l'attinenza con la realtà però un'altra cosa strana è che con tutto quello che poteva succedere lui tranquillamente gli chiede di diventare un vampiro gli chiede di diventare un vampiro perché tanto ormai comunque la notte non dormo perché così non mi sembra diciamo una motivazione così forte così valida e quindi lei praticamente comincia a succhiare il sangue solo che lui non diventa un vampiro perché come lei gli spiega per poter diventare un vampiro a sua volta lui dovrebbe innamorarsi della persona che glielo sta succhiando il sangue e quindi cosa decide lui di innamorarsi di lei ovviamente però non è una cosa così automatica che può scattare nella sua testa a comando e quindi cercherà in tutti i modi di innamorarsi di lei ecco non so come si possa cercare di innamorarsi di qualcuno se questo non scatta naturalmente però ecco la loro convivenza notturna perché spesso staranno appunto insieme di notte quando lui uscirà cercherà lui di portarla verso questo sbocciare dell'amore verso questa vampira quindi l'ho trovato carino sicuramente e continuerò per ora a leggerlo perché i disegni sono originali come vi ho fatto già vedere in qualche tavola sono molto molto interessanti la storia per quanto possa sembrare un po tirata via all'inizio è anche interessante verso la fine del volume comunque entra in scena anche un altro personaggio che può essere intrigante aggiungere un po di pepe alla storia però quello che ho trovato strano è appunto già la situazione che vi ho detto ovvero lui che non sembra minimamente essere scosso da questa cosa di aver trovato una vampira ma anzi come se fosse la cosa più normale del mondo il suo chiederle direttamente di diventare un vampiro e poi più che altro la cosa che mi piacerebbe venisse sviluppata meglio nei volumi successivi è un approfondimento psicologico e sociologico su quello che porta il ragazzo a essere insonne perché mi ricordo proprio c'è uno scambio di battute dove lui dice non è importante il motivo per cui soffro di insonnia quindi non te lo dico o qualcosa del genere in realtà per me è molto importante se vuoi farmi appassionare alla tua storia quindi io spero proprio che una delle cose che approfondisca prima sia proprio questo ovvero il motivo che gli dà tanto turbamento a questo ragazzo il fatto di essere insonne e di sviluppare anche questo carattere particolare tale da voler diventare un vampiro alla fine tu sì proprio tu lo so che ami tantissimo leggere i manga e che magari sei arrivato a quel punto in cui vorresti sapere anche cosa c'è dietro a questo fantastico mondo bene questo è il libro che fa per te anche mio nonno era un otaku l'incredibile storia dei manga il libro che ho pubblicato per mondadori electa junior che trovi qui sotto in descrizione oltre che in tutte le librerie e fumetterie d'italia e store online è proprio il libro entry level per tutti dai più piccoli ai più grandi che ti spiegherà le origini di questo fantastico mondo tantissime curiosità ad esempio come mai manga sono in nero come mai i giapponesi scrivono da destra verso sinistra e tante altre oltre che fornirti tante spiegazioni sui target sui generi e tantissimi consigli di lettura quindi dai su di corsa lui sta aspettando solo te la consiglio come opera per ora sì per ora sì perché mi ha incuriosito ecco forse anche proprio grazie a queste mancanze paradossalmente mi ha anche incuriosito a proseguire con i volumi successivi per vedere se le sviluppano oppure no certo è che se dopo 3 4 volumi dovesse tendere a ripetersi come faceva da gasci casci o a non dare nessuna risposta a quelle che sono le mie domande anche se piccola nel senso non voglio che mi spieghi tutto e subito però un po di cosine sì allora in quel caso sarei portato ad abbandonarlo a interrompere la serie per ora diciamo che comunque si fa leggere molto volentieri è stata una lettura piacevole e quindi lo contenerò sicuramente è è Grazie a tutti